In quel tempo, disse Gesù, in verità, in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore, dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre, e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori, tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù sottolinea che il pastore conosce le sue pecore per nome, e le guida fuori dal recinto, camminando davanti a loro, e le pecore lo seguono, perché riconoscono la sua voce. Gesù continua a spiegare, che egli stesso, è la porta delle pecore, e che tutti coloro che sono venuti prima di lui, sono ladri e briganti. Egli dichiara, che chi entra attraverso di lui, sarà salvato e troverà pascolo, ma il ladro, viene solo per rubare, uccidere e distruggere. Gesù E dopo aver ascoltato il Vangelo di oggi, iscriviti al canale, preghiere nel mondo, per la prossima preghiera.